Come debuggare un container? Ciao, io sono Michele e in questo video andiamo a vedere le pratiche migliori e come si fa a scovare i problemi all'interno di un'applicazione containerizzata con l'aiuto dei log. Quello che possiamo vedere infatti nella guida ufficiale di Kubernetes è che il pattern con sidecar container con un logging agent è uno degli approcci suggeriti insieme agli altri nella documentazione ufficiale che metto in link in descrizione. Quindi andiamo nell'ambiente di sviluppo a creare un'applicazione containerizzata che spara il log nello standard error e non lo standard output andando ad abilitare quindi gli scenari come per esempio quello qui che possiamo vedere con un pod che contiene il container vero e proprio dell'applicazione che scriverà nello standard error e nello standard output e abbiamo sempre nello stesso pod un altro container detto sidecar che gira in parte, gira vicino a fianco al container tra virgolette principale dell'applicazione ne legge standard error e standard output, sta in ascolto e magari spara il contenuto in un back-end in un servizio più strutturato di logging che gira all'interno del cluster. in questo modo abbiamo il vantaggio che stiamo togliendo dall'applicazione la logica di logging noi semplicemente scriviamo la nostra applicazione fa il suo business e il logging è gestito da qualcun altro di esterno un po' più a livello infrastrutturale andando quindi ad alleggerire la nostra applicazione. gli esempi che mostrerò saranno fatti con tecnologia csharp.net ma sono comunque validi per tutte le applicazioni per tutti gli stack tecnologici in particolare i comandi docker logs e docker exec che andrò ad utilizzare durante la dimostrazione. ok sono nell'ambiente di sviluppo davanti a me il docker file di un'applicazione aspernet core mvc vabbè è solo un pretesto per avere un'applicazione funzionante containerizzata le pratiche che stiamo andando a vedere diciamo per come accorgersi e debaggare vedere i log di un'applicazione containerizzata sono valide per tutte le tecnologie. allora qui fa avvio l'applicazione è un'applicazione web appunto è un template standard da cui partire e non c'è nient'altro non c'è nient'altro che un welcome faremo andare questa pagina in errore e vediamo come raccogliere i log come esaminarli magari in modalità container quindi sono andato nel controller dell'home page quando l'utente preme il pulsante privacy così giusto per esempio ho messo un'eccessione lancio un'eccessione con scritto catturami nel testo e la scrivo nello standard error andiamo a vedere che cosa succede qui sotto negli strumenti di visual studio dedicati al container allora parte l'applicazione facciamo così io metto il visual studio qui in parte e vado a vedere la parte dedicata ai container ecco così vediamo meglio qua sotto c'è la parte dedicata ai log quindi io vado nella mia pagina premo su privacy ecco che vedo che viene scritto qui nel mio log viene scritto la mia eccessione viene scritta qui quella funzionalità di visual studio che mi mostrava i log non ha nient'altro che il comando docker logs qui poi faccio seguire il nome del container e vedo il log qui esattamente identico a come l'abbiamo visto prima sempre per debuggare la mia applicazione posso lasciare delle tracce diciamo mettendo oltre che scrivere sullo standard error posso scrivere sullo standard output normale e posso dire sono passato di qui e allo stesso modo faccio partire qui ho la mia sezione dei logs vado sulla pagina privacy e vedo che sono passato di qui e quindi abbiamo questa schermata che mostra sia lo standard error che lo standard output e di nuovo posso farlo con docker logs web application 2 e quindi sono passato di qui si vede anche in questo modo a contenere in esecuzione un'altra cosa che faccio per debuggare che posso fare per debuggare e reperire informazioni sul container e magari sul suo file system virtuale è quello di utilizzare il comando docker exec che mi permette di lanciare un comando dentro al container quindi faccio docker exec in modalità interattiva resto quindi nel terminale voglio poter interagire mi resta aperta la sessione terminale dentro il container metto l'id del container che è web application 2 e poi do il comando sh voglio aprire per aprire una shell perché un container è di tipo linux e come vedete ha cambiato il prompt c'è il cancelletto e posso lanciare i comandi unix per vedere per fare tutto quello che mi serve posso quindi vedere le directory posso vedere il contenuto di file program.cs e così via posso usare tutti i tool che ci sono dentro il container ok program.cs eccetera eccetera non c'è in questo caso vii pulisco un'altra cosa che posso fare per esempio è vedere le variabili di ambiente quindi posso anche fare delle indagini su se ho dell'ambiente sconfigurato che variabili di ambiente ho e così via quindi questa è un'altra cosa che posso fare entrare nel container e lanciare i comandi per fare indagini sull'ambiente virtuale all'interno del container. Una volta che ho fatto questo posso fare tranquillamente qui il contesto di nuovo cambia il mio container è comunque in esecuzione io sono ritornato diciamo nel mio computer come contesto bene per oggi sulle pratiche di logging e debugging con i container ci fermiamo qui se il video ti è piaciuto o hai imparato qualcosa mi raccomando metti mi piace e iscriviti al canale così sarai notificato sulle nuove uscite. Ciao! Ciao!